Domenica 16 giugno alle 9.30 al Teatro Carignano di Torino si svolge il convegno Meridionali e Resistenza, il contributo del Sud alla lotta di liberazione in Piemonte 1943-1945, promosso dal Consiglio regionale del Piemonte sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. L'incontro approfondirà le storie dei singoli, le difficoltà del dopoguerra, il ritorno nelle famiglie lasciate anni prima, la fatica quotidiana per sopravvivere in un'Italia impoverita dalla guerra, la ricerca di un lavoro, l'ingresso e libro fino a esaurimento posti.